Iguain, 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 oh Gonzalo Iguain Ciao a tutti ragazzi sono Lucchi e sono accompagnati Lucchino Eh un bacio proprio voglio un bacio prima di iniziare Un bacio ho detto Te l'ho dato Uno Te l'ho dato Ma me l'hai ancora dato un bacio voglio Dai Uno Te l'ho dato Ma me l'hai ancora dato uno qua Sì te l'ho dato In questo punto lo voglio qua un bacio Uno Te l'ho dato Ma me l'hai dato uno ancora dai Te l'ho dato Dai vai Dennis un bacio Solo uno E te l'ho dato Non è vero ancora non ho sentito niente di un bacio Sì Dai Ancora Solo un Quanti me ne dai uno ne voglio Ma io non lo so E quanto Uno Dai Uno E così Non è vero ancora Tanti me ne dai uno ne voglio io Dai che poi iniziamo il video Ancora Eh vabbè è così lungo Uno Un bacino voglio Un bacino Uno 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 solo E dammelo dai Veloce Ancora Quanti Quanti Uno ne voleva Uno solo Benvenuti Benvenuti nel nuovo video ragazzi delle figurine panini calciatori Panini calciatori 2017 2018 2018 E guardate le magliette che abbiamo Ragazzi ma oggi siamo professionacchi Oggi siamo Una cosa importante ragazzi Apro e chiudo una parentesi Se io e Lucchino indossiamo una maglietta di calcio che oggi può essere la Juve e domani può essere il Barletta Noi simpatizziamo per la Juve ma non siamo tifosi accanitico mio dio riceviamo insulti augurazioni di morte riceviamo addirittura tante brutte cose perché indossiamo la maglietta della Juve o perché Lucchino dice che tifo la Juve ragazzi vi ricordo che il tifo non deve andare poi contro la persona O gente mi riscrivo perché sei Juventino Fuori dalle palle vattine Beh Che sta a fare qua A seguire noi due Che che Riscrivo che sono Juventino Ma cosa vuoi dire Dici qualche cosa Dici qualche cosa No Hai visto T'ha detto no t'ha detto Non si fa Oh Oh E vediamone Se qualcuno di voi fosse interessato per esempio le magliette ragazzi guardate qua Guardate non sono originali ma sono fatte da Dio Sono bellissime fatte da Dio Vabbè questi Lucchino li avevo presi a Natale io Da altre parti Questa qua ragazzi guardate dietro Mi chiamo Luke e sono il numero 10 Perché sono personalizzabili all'interno del prezzo gratuitamente E io Vi metto Tu c'hai di bala Tu c'hai di bala numero 10 Eh 10 ai 10 sono 20 C'è il link in descrizione mi raccomando è una pagina Facebook Dovete contattarli in privato Usate il codice Hashtag Luke Scritto in maiuscolo E avrete il 10% di sconto sulle magliette Ci sono 31 club 20 nazionali Ci sono maglietti addirittura Da donna da uomo Da allenamento Magliette addirittura storiche Tute Calzettoni Pantaroncini Di tutti e di più Datici in occhiato per favore Anche voce parli Anche voce parli E mi è uscita la voce Da un maschile Ta 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 Si stonca Perché c'è troppa luce Guardate qua ragazzi Sport Week È una cosa che era all'interno della gazzetta dello sport Dove all'interno appunto Abbiamo la prima rivista di Buffon Che compie 40 anni Ok ragazzi Una bellissima rivista Che ora andiamo ad aprire E dentro Guardate che c'è Ora andiamo a vedere 40 anni C'è troppa luce Si c'è 40 anni Buffon È vero È grande Ho spento la luce Siamo più bianchi noi Del bianco della maglietta Ma è confronto della luce Comunque il contrasto Ora si vede bene però ragazzi Dai si vede bene o no Allora Ragassuoli Andiamo ad aprire L'apre Lucchino 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 Lucchi E questi balloni Qua qua E Lucchino L'aprirà Questi balloni Qua qua E qua E di là Apri Apri Poi andiamo ad aprire Altre figurine Tanti Quanti like vuoi Lucchino 12 12 like Eh che sono un po' troppi Ci arriviamo a 12 like Sì Eh sono tanti eh 12 like Apriamo L'apre Lucchino L'apre Lucchino La sta aprendo Piano Allora Tanto la mamma Sarrabbia non ci interessa Buttiamo le carte Ragazzi eccola qua La rivista di Buffon Che si trova All'interno della gazzetta Dello sportico E la cosa importante Sai che Qua dentro c'è una Abbiamo Aspetta Il primo pacchetto Della collezione Panini Che troviamo appunto Nelle riviste di Di Ambaradam Della gazzetta dello sport Con il film Del campionato E andremo Poi appiccicherò io Nei video di appiccicazione Figurine Seguite quella serie Ragazzi Eccole qua Eccole qua Che Lucchino Andrà ad aprire E vediamo Che troviamo Qua dentro c'è una carta speciale All'interno C'è una carta speciale Forse più di una Vai Apri Apri E ragazzi Poi abbiamo ancora Un box da 100 Intero E queste qua Che sono avanzate L'altra volta Un po' ne apriamo oggi Oh Oddio Oh Cosa c'è Cosa c'è Facci vedere Facci vedere Vediamo Vediamo lì Vediamo lì Sergei Milinkovic Savage Sì Allora Tu li guardi Poi me le passiamo meglio Faccio vedere loro Ragazzi Guardate qua La C6 Sono delle figure Non si vede nulla Non si vede Sono delle figurine Vedete Milinkovic Savage Che si trovano solamente In questi pacchetti Per completare Al 100% L'album Eccolo qua Alberto Brignoli Questo è il film Ragazzi Non so se si vede In video Quando Brignoli Se ne ritesta Contro il Milan Se non erro Vedete Il primo punto Del Benevento Poi vediamo un po' Ancora La Gazzetta dello Sport Napoli Mezzo Scudetto Qua è dove si festeggia Il Napoli Per esempio Interlazio Mezza Champion Un altro film E poi il film Sarebbero i ricordi Del campionato Diciamo Ecco perché Usciti dopo Perché la prima stagione Del campionato Si è appena conclusa Marek Ansik Eccolo qua Ragazzi Un'altra Un'altra Baladam Bellissimo Amsik Che quest'anno festeggia Un bel record Nel Napoli E poi l'ultima Fabio Quagliarella Non poteva mancare Ragazzi Eh Quanti gol Nella Samp Signori Eccolo qua E E nulla Il veterano del gol Ragazzi Questo era il pacchetto speciale Molto molto carino E figolo Adesso andiamo ad aprire Le figurine vere e proprie Apriamo qualche pacchetto Ma mamma donna Vabbè non tutte Tu te ne approfitti Tu te ne approfitti Della mia gentilezza E bravura E costanza E pazienza Guarda che se perdo la pazienza Chiamo Enza E poi Enza Tutto nella cadenza Mettiamo Enza Uno lo apro io Uno lo apro io Ragazzi Sto aprendo Un pacchetto Ancora Non ho aperto pacchetti Tu fai le challenge Con Ale Fai le challenge Con Adam Fai le challenge Con quelli Con quegli altri Con me Niente Allora io apro E trovo due giocatori Della Juve Due Vediamo un po' E invece Luke trova Fiorentina Cos'ha trovato? Poi trovo Benevento Luca Antei Vedete? Poi trova la Samp Jacopo Sala Vedete? Poi trova Sfortuna non è vinto Vabbè serie B Uuuu 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 Udinese Udinese Kevin lasagna Guarda E anche ora di pranzo Qualche Magari la lasagna Potrei mangiarla anch'io Che c'ho fame Allora Queste le mettiamo qua Le speciali Prendiamo a attaccare Tu che hai trovato? Allora Hai trovato Wow Del Cagliari Del Genoa E poi Hai trovato Non è vinto Mettiamo da parte Serie B Ma mancano le figurine qua E la spalla Nulla di che ragazzi Eccole qua E mia la spalla La spalla Hai trovato Sì La spalla La spalla Il piccone La pala Hai trovato Anche l'ascia L'ascia La spalla La squadra di calcico E non capisci L'italiano L'Inter L'Inter Oh stai fammi vedere qua Questo è un bel pacchetto Ha trovato ragazzi Cancelo Dell'Inter Stasera gioca l'Inter Ragazzi Inter Crotone La guardate voi Io la guarderò 2045 Inter Crotone Che c'entra la Juve Inter Crotone Eccola qua Qua hai trovato Tieni Oh tu è dell'Inter Tieni qua No questa Atalanta Spinazzola dell'Atalanta Ha trovato Tieni 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 Cristante dell'Atalanta Oh tutto nell'azzurro Sto pacchetto di figurine La squadra della Samp Doria C'è uno speciale E poi Dillo tu Dillo tu Dillo tu Te lo dico io Non so leggere Dillo Dilla Roma Del provinci Dlla Roma Del provinci Ma scelto cosa Questo Eh ma cos'è un Non so Druidone Un daratore scelto Sì Un daratore scelto ragazzi Hashtag un daratore Tiratore Pum Pium Gol Tiro Tiro Tiratore 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 Ecco Tiratore Tire Tore Tore Tire Tire come il toro come il toro come il toro perché il toro corre quindi toro corre tore 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 capito si la tore cosa ho trovato allora ho trovato la milizia della samp poi qualcuno del milan donna rumma ragazzi donna rumma ma è lui il fratello è lui Gianluigi la maglietta oh madonna ha trovato la maglietta ha trovato i pantaloni la maglietta wow la maglietta come ha trovato i pantaloni i pantaloni ma oggi ce l'ho parlare in italiano i pantaloni non li ho trovati i pantaloni bellissima la maglietta li ho trovati guarda qua no non ho trovato i pantaloni non si trovano i pantaloni tieni qua il tuo pacchetto ti ho trovato ancora un bianco nero ma è matos dell'udinese non riesco a trovare nessuno della Juve ma che è oh la maramaschia e poi la squadra del Palermo ragazzi il Palermo che ieri ha preso quattro pappine dai leggi quattro pappine dall'Empoli hai visto l'Empoli-Palermo ieri ragazzi che partitone allora Van der Veel Van der Veel è un po' come dire vai a quel paese Van der Veel è in milanese Van der Veel poi Falcinelli bello Falcinelli del Sassuolo ah c'è la lettera c'è la lettera c'è la lettera e la lettera A la lettera A come? ancora ecco per esempio Fiorentina eccolo qua poi abbiamo trovato aveva la maglietta ecco l'altro l'avete già visti non hai vinto vai un altro pacchietto ancora un po' chi troviamo ragazzi volete altri video così scrivete chi è arrivato fino a questo punto del video hashtag si vogliamo altri video così eh? si vi ricordo che con Lucchino posso registrare solamente il fine settimana perché durante la settimana va a scuola eccetera 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 allora troviamo Cordaz prima ho trovato questo oh dai cavolo ho trovato qualcuno della Juve alla fine c'è la nostra maglietta guarda guarda la mia guarda no no ragazzi barzagli c'è uno doppio ma barzagli fino al minente doppio chi è cazzola gazzola 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 è come dire la parolaccia è come dire la parolaccia non si dice quindi lo chiamiamo Pimpirillo abbiamo trovato Pimpirillo le sassuoro ho trovato Federico Fazio della Roma ho trovato lo scudetto hai trovato lo scudetto ma sai che non sono scudetti quelli dovrebbero essere gli stemmi sono gli scudetti lo scudetto è quello che si vince quello è lo stemma lo stemma lo stemma della spezia del ternana bellissimo vedete qua bellissimo bravo che hai trovato oh cero immobile media golda record hai trovato un film calciatori si madonna nel pacchetto normale ragazzi l'ha trovato dammi un bacio qui un bacio uno solo vai così solo uno uno si va bene così va bene così perché poi mi arrabbio e mi vengono i la dea in Europa l'Atalanta bomba la squadra un po' di tossina chi tu che hai trovato vabbè Samp Sassuolo Cagliari e gli scudetti li faccio vedere così velocemente ragazzi come un mazzo di carte la I 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 apriamo un paio di pacchetti si io papà un paio di pacchetti tutti li sta prendo stu ba uc qua ma rec della spalla ho trovato l'Atalanta poi abbiamo trovato nell'Allas Verona è l'Atalanta bravissimo l'Atalanta sta imparando c'è la Juve la Juve Iguain 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 oh Gonzalo Iguain la C la C la C ho trovato la C di Iguain la C di Iguain C Gua Guadilain 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 oh la squadra del team Verona e poi la Juve la Juve della Serie B ho trovato una maglietta ho trovato una maglietta la maglietta della Sampo bravissimo bella la maglietta della Sampo quante belle cose oggi quante belle figure chi è ragazzi che poi queste qua sono quelle di oggi ho trovato hai trovato Milik del Napoli bellissima ragazzi bellissima coda e ok e questa non è vinta vi faccio vedere una cosetta ragazzi queste sono le figurine di oggi che io dovrò andarmi poi ad attaccare negli altri video ma guardate un po' quante ne ho ancora da attaccare capito perché faccio i video quelle sono le carte poi le usiamo vai apro anch'io un altro mi sto divertendo anch'io allora chi è gobbens dell'Atalanta Napoli ancora maggio siamo a febbraio trovo maggio penso un po' dell'Inter guarda che ho trovato d'Ambrosio 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 dell'Inter eccolo qua io ho trovato stadio Renato dell'Ara ragazzi lo stadio del Bologna io ho trovato cos'è l'Inter no cos'è lo stadio del Bologna quello è il Milan rosso nero poi serie B chi ha trovato le Milan andami qua andami qua vedete hai trovato oh Milan e Lazio guarda qua Milan e Lazio Coppa Italia una speciale l'ho trovato allora ha trovato Musacchio del Milan e Walace non ce la faccio vedere non me la puoi vedere ma come la faccio vedere agli altri se prima non la vedo io chiudi occhi apri guarda chi è Ballardini brava sai chi è il mister il mister del la squadra abbiamo confuso l'altra volta che ci hanno fatto un mazzo tanto nei commenti ti ricordi Bologna Genua Cagliari Valentini Venezia questo qua è del Ravenna Ravenna no aspetta che ora te lo dico è del raga non mi ricordo c'è un Laptus è del Cagliari ma li fotto io tieni qua dimmi il numero guarda dietro guarda dietro il numero guarda il numero dietro ma li fottiamo 226 226 andiamo a dire 226 ci squadra non lo dice a nessuno adesso questa parte la taglio capito 226 un po' qui 226 è del Genuo zitto capito faccio vedere niente fai il serio fai il serio faccio serio così serio fai il serio bravo così ragazzi abbiamo trovato Davide Ballardini il mister del Genova o tutti eh del Genova era poi allora andiamo avanti i fossati dell'Alas Verona eccolo qua non è vinto e la squadra del Crotone la protagonista di oggi ragazzi perché è Inter Crotone la challenge di Ale che lui io scelto la Juve e Ale scelto il Crotone voglio un bacio qua ti sei ricordato la challenge con Ale voglio un altro bacio qua grazie andiamo avanti ragazzi aprire le figurine Rodriguez del Milan Milano 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 quest'anno totale supporto al Milan ragazzi Edgar Berreto Berreto guarda quanto ne abbiamo ne abbiamo già quattro da ritirare la squadra della Fiorentina ho trovato una speciale vai in cantina ma che bello è del Sassuolo ragazzi lo stemma del Sassuolo ma è bellissimo come luccichisce bravo la squadra dell'Avellino stai trovando un sacco di speciali oggi sei molto molto fortuneto vediamo un po' hai trovato poi che schi hai trovato poi Pandevo del Genova abbiamo imparato Val di Fiori del Torino e salutiamo Valmontino saluto Valmontino di ciao Valmontino ciao Valmontino perché Valmontino ti fa il Torino fa anche rima hai visto ciao Lale sono il Gianlu è una cosa ragazzi a Valmontino capiremo solamente io e lui l'Inter cos'è l'Inter come fate a capire che è l'Inter questo oh è Andanovic il portiere dell'Inter questo è un pro player oh è trovato un pro player bello Andanovic dell'Inter è il santino dell'Inter tu sai che questo qua ogni stagione ogni stagione porta i punti all'Inter perché fa tante cose hai capito guarda oh lo scudetto del Crotone raga non ce n'è oggi lo stiamo nel Crotone la squadra del Crotone Andanovic dell'Inter ed è proprio la sfida di stasera Inter-Crotone quante volte l'ho detta sta cosa sembra che stavo facendo pubblicità alto all'Inter mi pagano guarda qua del Napoli poi che è Cabrera balabam poi che sfortuna non è vinto la squadra del Ternana del Ternana allora io ho trovato Borini del Milan Babacar della Fiorentina ragazzi e ricordiamo che Babacar non è quello che è andato nel Crotone no che nel Crotone nel Sassuolo da qualche parte è andato ditemi i commenti se ho detto una stronzata Petagna dell'Atalanta poi non è vinto la squadra del Bari forza peri forza peri forza per me dingello dingello forza peri il portiere del Belek guarda qua doppia Belek Belek Lazare Belek della squadra Sturaro Sturaro Lavandini Sturaro Lavandini doppia non è così Sturaro Lavandini Sturaro Lavandini ragazzi sono ancora un sacco d'aprile ma lo faremo nei prossimi video perché per oggi basta hai trovato il mister di il mister dell'Inter Spalletti ma oggi tutto Inter e Crotone guarda qua madre poi trovate la spalla Felipe poi Dalla Sorona e barabam basta che prendiamo nel prossimo video l'ultimo 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 vai trovo Cristiano Ronaldo e Messi non puoi trovare un Messi è vero non posso trovarli Fiorentina guarda qua bomba oggi un sacco dell'Atalanta ma un sacco dell'Atalanta poi Barreca del Torino salutiamo Valmontino la squadra del Torino ha risaluto Valmontino e poi l'Ambaradamo così tu che hai trovato? fai dire Sassuolo Oragusa buono poi oh Coulibaly del Napoli nice Coulibaly del Napoli forza Napoli oh Mazzitelli del Sassuolo forza Sassuolo c'è la lettera A c'è la lettera A dietro oh Messi la squadra del Palermo nice la squadra del Palermo e la squadra del Ternana eccolo qua finisce un bel mazzetto che si va ad aggiungere a quell'altro mazzo che poi io mi devo appiccicare perché il signor Dennis non le appiccica guardate qua quante ragazzi guardate quante giorni eh questi giorni metti a posto bravo bravo dammi la mano almeno qua ti trovo a buttare ragazzi siamo giunti alla fine di questo video e questi qua questi qua appizzi con la luce e quella poi li facciamo un altro video con le carte no da Luke e è tutto ciao a tutti ciao a tutti